Ma l'evidenza voi la dovete vedere che ci sono più di 20 negozi chiusi, guardate l'evidenza cosa è successo con la strada chiusa, è evidente ci sono un sacco di negozi chiusi, questa è la realtà della strada chiusa, anche perché la strada chiusa va chiusa ma va organizzata, i posteggi per le macchine, i pedoni devono avere, i mezzi per venire al centro, il problema nasce proprio qua, è inutile che tu vai a chiudere una strada senza che dai servizi, ma che cosa serve questa strada chiusa? E poi dal massimo ai quattro canti, perché non chiude via Ruggero VII? Che è il centro di Palermo, perché solo via Macqueda? Questo mi fa pensare che ci sono degli interessi in via Macqueda, solo questo. Se la fanno per analizzata, per come dicono sui giornali, va bene, facendo panchine, alberelle, luce in più, eccetera eccetera, ma non deve passare nessuno. Se poi ritorniamo a quello che c'è oggi, leviamo tutto e mettiamo il traffico libero per chiunque. Ha visto un crollo delle vendite, perché questa zona è così? Il calo nelle vendite c'è stato, perché i clienti che vengono da fuori zona o anche dai paesi limiti, attualmente non possono venire più, quindi c'è stato un calo di circa il 30%, anche di più. Qua, qui dentro, ormai non viene più nessuno, perché non ci sono né parcheggi. Loro dicono sì, ci sono, non c'è niente. Una volta che non ci sono parcheggi, non c'è niente. Qui dentro, ma come vengono? Prima di venire qua, ma è normalissimo che se ne vanno nei centri rionali, ci sono i mercatini, ci sono i centri commerciali, ci sono tante cose, ma qua che devono venire a fare? Lei cammina in bici? Assolutamente no, aperta completamente anche ai veicoli, o tutti o nessuno. Senza macchine è bellissimo passeggiare così in tranquillità.